Il 20 agosto nella piazzetta della Cimogna, dalle ore 19.30, ci sarà la confetta cena e poi ci sarà lo spettacolo, parte di Utopia del Buon Gusto. Quest'anno abbiamo già avuto il piacere di poter vedere degli spettacoli di Utopia in canzoni italiane e adesso è il turno della Cimogna. Ci sarà l'uomo tigre, che è una prima nazionale di Guascone Teatro, ci sarà Andrea Hennerle e poi ci sarà la consuetà, il consueto spirito e il clima che di solito accompagna le serate di Utopia.